Gli assassini Gli assassini E poi noi, poi noi gli assassini vi abbiamo Fatto girare in fretta fra i tavoli Buttando all'aria tutte, tutte le pezzi Cosa c'è di sbagliato? E noi gli assassini Cosa c'è di sbagliato nei nostri giardini? Che cosa c'è dietro ai vostri mascherini? Che cosa c'è dietro ai vostri? 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 Grazie.